Ciao a tutti, bentornati su Animalpedia! Queste due razze canine sono originate del Regno Unito, ed entrambe sono state tradizionalmente usate per la caccia, anche se attualmente sono considerate dei grandi cani da compagnia. Hanno alcune caratteristiche fisiche in comune, come dimensioni, orecchie cadenti e il manto, che di solito è nero, marrone e bianco. Non riesci a distinguere queste due razze di cani? Sei del posto giusto! In questo nuovo video di Animalpedia ti spieghiamo tutto quello che c'è da sapere per smettere di confonderle. Sia il beagle che il busset hound sono originari del Regno Unito, e sono stati utilizzati per molti anni nella caccia, per intracciare e recuperare le prede, soprattutto coniglie e lepri, ma anche cervi e cinghiali. Ciò grazie al loro straordinario senso dell'olfatto. Infatti, insieme ai cani Bloodhound, Alsanubert e Foxhound, sono tra le razze camminie che hanno questo senso più sviluppato. La popolarità del beagle è aumentata negli ultimi anni, perché non è un cane molto grande, è molto intelligente, obbediente ed ha il pelo corto. Tutte queste caratteristiche infatti rendono più facile la vita e la convivenza in appartamento. Inoltre, il beagle è molto resistente alle malattie, e tende ad avere meno problemi di allergie respiratorie e cutanee rispetto ad altri cani di taglia simile, con il pelo corto, come ad esempio i bulldog. Ma come riconoscerli? Ecco alcuni indizi chiave. Entrambe le razze hanno orecchie grandi e pendenti, ma mentre quelle del beagle sono piuttosto sottili e quadrate, quelle del Bassetound sono molto più lunghe e possono raggiungere gli arti anteriori dell'animale. Come per molti cani di questo tipo, la pelle del Bassetound presenta numerose pieghe lungo tutto il corpo, e persino nella testa, compresa la fronte e l'area sopra gli occhi. Questa caratteristica gli dà un'espressione di tristezza, nonostante sia in realtà un animale da carattere molto allegro. Ciò invece non accade nel beagle, e l'assenza di rughe aiuta a distinguerlo non solo dal Bassetound, ma anche dalla maggior parte dei cani da caccia. Guardare il corpo è uno dei modi più semplici per distinguere un beagle da un Bassetound. Conosciuto da alcuni come Bassotto, soprannome che viene usato più spesso nella razza teckel, il Bassetound ha un corpo allungato e le gambe molto corte. Al contrario, l'aspetto del beagle è più quadrato, con le zampe in lunghezza normale, essendo più alto del Bassetound e con un corpo un po' meno corpulento. Per inciso, il Bassetound riferisce dal teckel, chiamato anche Bassotto standard, in quanto è molto più grande e con le pieghe nella pelle che i Bassotti standard non hanno. Il colore è la principale causa di confusione tra questi cani, poiché la maggior parte degli esemplari di entrambe le razze sono tricolori, ciò hanno un mantello che combina bianco, nero e marrone, anche se in entrambi i casi sono consentiti molti più colori. È abbastanza comune trovare un Bassetound di solo due colori, bianco e marrone, mentre non è così facile vedere i cani beagle senza il tipico motivo tricolore. Entrambe le razze canine sono intelligenti, obbedienti e molto facili da addestrare. Inoltre è estremamente difficile trovare un beagle o un Bassetound con problemi di aggressività. Al contrario, tendono ad essere affabili anche con gli estranei, caratteristica che li rende incredibili compagni ma pessimi guardiani. In ogni caso il Bassetound è un po' più ostinato e calmo del beagle, mentre il beagle è più giocoso e attivo, soprattutto gli esemplari giovani. È possibile che il beagle sia leggermente più intelligente del Basset, anche se questo dipende molto dall'individuo e non è conveniente generalizzare. Sei già in grado di riconoscere le differenze tra queste due razze? Se ti è piaciuto questo video, non dimenticare di mettere like, commentare e iscriverti al canale. Alla prossima! Alla prossima!